E' il 1990. Dai microfoni di Radio Onda Verde, Piero Muscari lancia una sfida. Realizzare un progetto didattico. Nasce così il progetto School Day, la festa della scuola. Era il 1990 quando nasceva lo School Day, il primo talent show in Italia. Non sapevamo che poi i talent avrebbero avuto così tanto successo circa dieci anni dopo, con l'arrivo di Amici, X Factor, The Voice e tanti altri format che hanno fatto capire agli italiani quanto la ricerca del talento sia così importante. Lo School Day ancora oggi è una realtà. Stiamo preparando una nuova edizione italiana dove migliaia di giovani si potranno incontrare, vedere insieme e soprattutto aiutarci a raccontare un mondo che ci sta molto a cuore, quello della scuola. School Day rimane l'unico vero talent show per il mondo della scuola italiana. Insieme alla musica, al canto e al ballo mette dentro anche la cultura, un game quindi basato anche proprio sulle cose che i nostri ragazzi imparano. Vi aspettiamo a Roma numerosi per conoscere le mille facce e i mille volti dei ragazzi italiani. Saranno circa mille i finalisti che si ritroveranno in una tre giorni straordinaria che vogliamo dedicare al mondo della scuola. I nostri ragazzi, oltre ad incontrarsi fra di loro, incontreranno le istituzioni italiane e racconteranno il Paese dal loro punto di vista. Ogni anno School Day darà l'occasione a ministri piuttosto che a uomini dell'istituzione di incontrare la parte più giovane del Paese e di ragionare attorno a tematiche quali il lavoro, la politica, il futuro, insomma sentire la viva voce dei giovani finalmente protagonisti attivi del loro Paese. Vi aspettiamo a Roma molto presto per la nuova edizione di School Day che punta a celebrare il talento e il merito nel mondo della scuola italiana. Grazie a tutti.